Il primo tiro in morta sicuramente facilita il compito di una squadra che deve vincere. La rete ha dato loro coraggio, sicurezza, però sono stati bravi a tenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!